beh credo che si veda già qualcosa che ha quasi dell'incredibile neanche a farlo opposta guardate come me la fate trovare questo cerro adesso me lo gusto un attimo qua in mezzo toscano da stamattina all'alba che giro grande giornata ne ho altre 5 di stamattina coppia bellissima ciao ciao